Oroscopo del giorno. Giovedì, 7 febbraio, 2019. Ariete. Lavoro. Lavoro. Amore. La vostra eccessiva gelosia, potrebbe mettere seriamente a rischio, una relazione a cui tenete moltissimo. Prima di accusare il partner di avere una relazione extra, accertatevi che i sospetti siano fondati. I single, oggi vivranno emozioni particolarmente coinvolgenti. Lavoro. Vi aspetta una giornata intensa al lavoro, ma comunque, riuscirete a trovare la soluzione ad ogni questione. Gemelli. Amore. Lavoro. Cancro. Amore. I pianeti sono turbolenti per lamore, ci saranno in vista cambiamenti, anche significativi, per molti del segno. Se riflettete sulla persona che vi sta a cuore, fatelo con la dovuta serenità. Se siete soli, cercate di aprirvi più allamore, e impegnarvi nel rapporto con gli altri. Lavoro. I pianeti vi danno tantissime opportunità, per migliorare la vostra condizione economica, non fatevele sfuggire. Leone. Amore. Alcuni eventi improvvisi nella vita sentimentale, potrebbe mettervi nel panico. State tranquilli, nulla di serio si profila allorizzonte, anche se non dovreste sottovalutare alcuni atteggiamenti. Pronti per innamorarsi, i cuori solitari faranno nuove conoscenze, che promettono bene. Lavoro. Ottime prospettive per un lavoro nuovo. Cercate di sfruttarle al meglio alcune situazioni che vi si presenteranno. Vergine. Amore. Oggi, le coppie che hanno avuto problemi, e discussioni, troveranno finalmente unintesa, oppure spazieranno via anni damore come un colpo di spugna. Non ci saranno mezzi termini anche per i single, il che porterà spesso, a non riconoscere la persona del cuore. Lavoro, se siete alla ricerca di un occupazione, sappiate che oggi ci saranno le occasioni giuste, per garantirvi il successo. Bilancia. Amore, la mancanza di dialogo, potrebbe far nascere delle controversie, anche tra le coppie più solide. Non pensate di risolvere tutto con qualche parola tenera, ci vogliono i fatti. Se siete single, abbiate fiducia nelle occasioni di incontri, che vi si presenteranno oggi. Lavoro, nuovi sbocchi lavorativi in vista, per chi desidera cambiare occupazione, potrete fare nuove esperienze, in settori inediti. Scorpione. Amore, la giornata potrebbe essere particolarmente allettante, dal punto di vista sentimentale, e delle amicizie. Chi è molto innamorato, trarrà vantaggio da venere in buona posizione. Chi è single avrà diverse svariate occasioni, per incontrare persone stimolanti, e interessanti. Lavoro, giornata positiva per il lavoro, ci sono ottime prospettive, anche per risolvere una questione che vi ha dato dei grattacapi. Sagittario. Amore, lamore oggi potrebbe riservare delle belle sorprese, ve ne riguarda dalla vostra parte con benevolenza. Se amate qualcuno provate a dimostrarlo. Provate a guardarvi intorno se siete soli, e cercate di fare nuove conoscenze, e amicizie. Mettete in conto lidea di un viaggio. Lavoro, non forzate una situazione, che potrebbe compromettere anche la vostra situazione finanziaria. Fermatevi a riflettere. Capricorno. Amore, bene lamore, questo giovedì vi regalerà tanti momenti di serenità. Una vecchia fiamma però potrebbe tornare a farsi viva, e mettervi addosso un po di nostalgia. Oggi i single, potranno avere loccasione giusta per parlare, con qualcuno che sta particolarmente a cuore. Lavoro, ottime notizie in arrivo per la sfera lavorativa, ci saranno presto dei vantaggi, e comincerete a vederli già da oggi. Acquario. Amore, inutile nascondere il vostro disappunto per gli atteggiamenti di un partner distratto, non sapere mentire. Meglio affrontare di petto la questione, e chiarire. I single, dovranno stare attenti a non fidarsi di persone, che non meritano affatto. Lavoro, i pianeti oggi vi ispirano le giuste strategie, per risolvere alcuni problemi lavorativi, che state incontrando da un pezzo. Pesci. Amore, sarà una bella giornata per i nati sotto il segno dei pesci. Chi è in coppia da tempo, godrà di unintesa alle stelle, accompagnata da grandi slanci di passione. Le stelle, annunciano attrazione fatali per i single, che vorranno vivere pienamente lamore. Lavoro, se avete ricevuto una proposta di lavoro, valutatela con attenzione, e decidete di conseguenza. . 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